Salvatore Pane, già segretario generale aggiunto della CGL di Crotone e dirigente provinciale del Partito Socialista Italiano, in una nota stampa scrive «E' scomparso Ottaviano del Turco, un protagonista della vita sindacale politica ed istituzionale del nostro Paese. La sua attività sindacale, quale segretario generale aggiunto della CGL in rappresentanza della componente socialista, ha accompagnato l'impegno di tanti di noi con l'apporto della nostra cultura riformista e socialista nelle lotte per la difesa e l'emancipazione del mondo del lavoro. La lotta per la democrazia e contro il terrorismo, la ricerca incessante del dialogo e della concertazione, anche nella fase delicata politico-sociale, seguita al decreto di San Valentino, varato nel 1984 dal governo di Bettino Craxi, con il taglio di tre punti della scala mobile ed il contestuale blocco dei prezzi e tariffe per tre mesi. Ricordo, scrive ancora Salvatore Pane, le sue continue venute in Calabria e da Cortone, quando svettavano le ciminiere, per difendere il lavoro e costruire lo sviluppo, un periodo esaltante di lotte e di elaborazione, cui purtroppo negli anni successivi si è consumato lo smantellamento dell'apparato produttivo ed il deserto delle Dee. Non è strano a quest'ultimo la fuga dei nostri giovani verso il Nord e il resto d'Europa. Da ricordare anche il suo sforzo generoso, quale ultimo segretario del Partito Socialista Italiano dal 1993 al 1994, dopo la breve gestione di Giorgio Benvenuto, purtroppo non bastevoli a mantenere attivo e a rilanciare il più antico partito politico del nostro Paese. Bersaglio quotidiano della falsa rivoluzione di Mani Pulite, che di Pulito non ha avuto neanche le coscienze, come hanno dimostrato sviluppi successivi e le recenti esternazioni dei diretti interessati. Ciao Ottaviano, i lavoratori e i socialisti non ti dimenticheranno. Salvatore Pane